Un problema tecnico. Beh, ora ho le monete. Quasi abbastanza. Ah no, non ne ho abbastanza le monete. Ok. Oh no, non ho abbastanza soldi per quello. Ah no, non ho abbastanza le monete. Ok. Allora farò uno dei pirati, perché ci avevo provato una volta e non mi ha dato niente di che. Vai. A me qualcuno, un personaggio di questo. Lancio? Hai ragione un pirata? Dai Larry. Ma dai è lo stesso personaggio. Ma è lo stesso personaggio questo. Dai. Ma ne ha 98. No no, me ne manca. Ok. Ok. Allora sono tutti. Quindi 50. Ok. Questi sono gli unici. Posso solo comprare questo. E poi questo. mi ha dato? Due volte? E ora non ho abbastanza. No. Non ho abbastanza. Intanto non ho finito io. E ora. E ora indovinato un po'. Devo ricominciare tutto. E cosa? Cos'è tutto questo? Ma perché mi fa l'ordine sbagliato? metto questa qua? Metto questa qua. Registrazione? Registrazione? La metto qua. Registrazione? 3.. 2.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 2.. 1.. 1.. 1.. ragazzini da cinque anni ma chi è piccolo quindi ho detto in acqua verticale così si vede tutto la perfezione non c'è una guscia saltante e dove una banana quindi è un po il limite il guscio mega 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 no super e non mega dammi lancio che ora vado di lato per fare il guscio eh signore infatti guida strano sto guidando io strano ok 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 torba olè banane criplo banane e vediamo la seconda terza che ci cascherà ecco salto vai di qua poi vai di la poi vai di qua poi vai di qua è una banana per donkey kong che deve guarda c'è no devo un episodio non puoi comandarmi ragazzi quella madre mi comanda sempre non vuoi che lei mi comanda questa volta mi è crescere un episodio quella lì ragazzi quella lì è strana non mi ne so da anche stare il record è nulla perchè il record di qui ecco i miei cioccolato il cioccolato è tau wario il tetao il wario coca cola dei border beh perchè io ho collegato stessi gioco i tablet E non mi interessa il paesaggio, vuoi mi interessa il paesaggio, olè partenza raggio, raggio invece di rat, Luigi Show, un ratellone di Mario, anche se non ho quel classico, tuo vecchio fratello classico, c'è anche un altro cupa, quanti cupa avete? Io ne so uno, quello lo so io, ed è inutile, la sua fiore, e dai come? Oh no Luigi no, no Luigi, Luigi, stai, oh no pianta, addio, raggia, oh no, oh no stanno venendo, Buoi coglioni, sto scherzando, adesso non si dice, a me, un buon guscio, una bella banana, per la buona fortuna, fortuna ha detto fortuna, Olè, oh no, oh no, 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 no no, no, di aia, chi è che mi lancia questi gusci? Solo cupa d'oro? C'è anche quello d'oro? dai scappa scappa aiuto aiuta oh no pirana 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 gusche contro gusche morte banana doppia banana ho messo fatto ho fatto mini la rosa sclamando un bel avete per che non mi lascio avete per che non mi lascio avete per finire l'episodio aspettate questo qua questa pubblicità quando mi lascio avete per quanto mi lascio non non mi lascio non lo so 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 non è il giro Grazie.